Da ieri sono entrate in vigore le nuove tariffe della sosta Como, in particolare quella che prevede il pagamento di 1 euro l'ora e 5 euro per l'intera giornata lungo l'asse della tangenziale nella zona dell'Ippocastano e nel parcheggio della Ticosa. E' proprio qui nel posteggio che si trova davanti all'edificio della Santarella. Fino a due giorni fa la tariffa giornaliera era di 3 euro, da ieri invece la tariffa oraria è di 1 euro, mentre quella massima 5 euro per 11 ore dalle 8 alle 19. Via Libera all'adeguamento tariffario dei parcometri da parte di Como Servizi Urbani che entro la fine di aprile concluderà tutti gli aggiornamenti tariffari previsti dal nuovo piano della sosta annunciato nei mesi scorsi dalla giunta cittadina. I lavori di adeguamento sono iniziati il 3 aprile con la dismissione dei parcometri di via Regina Teodolinda e di piazzale Scrivà. Nella giornata di domani si inizierà a pagare anche nei posti davanti al Sillab, attualmente con strisce bianche. Il parcometro è stato installato mercoledì mentre le strisce blu verranno create domani mattina e subito dopo sarà attivato il parcometro la cui tariffa segue quella della tangenziale 1 euro l'ora e 5 euro al giorno. Da oggi tariffe più care nelle zone considerate a maggiore attrazione turistica, il caso della zona stadio Villa Olmo e Biale Geno. I posteggi in questo caso rientrano nella cosiddetta zona arancione dove si paga dal lunedì al venerdì 1 euro l'ora mentre sabato domenica e nei giorni festivi si passa a 2 euro. Gli step successivi scatteranno poi nella giornata di lunedì 8 aprile con l'adeguamento delle vie Giulini, Mentana, Sirtori, Gerbetto, Ciceri, Carloni, Italia Libera, Turriani che rientrano nella zona blu 1 euro l'ora. Sarà attivata il 9 aprile la tariffa oraria rossa, la più alta che comprende diverse vie attorno al centro cittadino a partire dal Girone con Viale Varese e Viale Lecco per passare alle vie Pessina, Santo Garovaglio e Piazza del Popolo. In questo caso la tariffa oraria passa da 1 euro l'ora a 2. Nei parcometri aggiornati è stata inserita anche l'opzione più 30 minuti che consente di andare avanti di 30 minuti in 30 minuti. Nelle giornate del 10 e 11 aprile si effettuerà l'adeguamento della zona tariffa azzurra nella quale rientra Via Anzani, Piazza San Rocco, Via Brogeda, Via Alciato, Via Crispi, Ancora Piazzale Anna Franche e Via De Mille e dove sostanzialmente non cambia il pagamento. Oggi nei parcheggi dell'area si paga 50 centesimi la prima ora e 1 euro le successive. La nuova tariffa prevede lo stesso costo ma la sosta sarà gratuita nei giorni festivi. E infine la tariffa gialla riservata ai bus turistici. Il piano di adeguamento dei parcometri terminerà il 23 aprile con l'ultimo intervento che renderà a pagamento il piano a raso del parcheggio di Tavernola mentre il piano rialzato resterà gratuito. L'obiettivo dunque è sistemare tutti i parcometri entro la fine del mese come previsto dalla Giunta.